E' un'annosa vicenda quella legata ai servizi igienici a disposizione degli operatori commerciali di piazza Andrea Costa, il fulcro ittico alimentare della città con i tanti operatori ambulanti di frutta e verdura e quelli ittici del mercato del pesce situati nei locali del comune sotto il palazzo di edilizia popolare che guarda proprio il centro della piazza. Innumerevoli le segnalazioni anche la nostra redazione di degrado e di sporcizia e di uso improprio dei locali spesso impraticabili e inutilizzabili per il puzzo che emanavano. Più volte ed anche a più riprese siamo stati lì in quel posto per documentare con le immagini il limite della decenza al quale può arrivare la maleducazione di alcune persone in un luogo inevitabilmente accessibile a tutti ma espressamente dedicato a chi in questa piazza ci lavora ogni giorno. Ora dopo tanto tempo pare che il comune abbia trovato le risorse per risolvere questa problematica incominciando a ripristinare le due fontane sotto i portici della struttura del mercato del pesce e risolvendo gli accessi indiscriminati al bagno pubblico con l'aiuto della tecnologia. Per ristabilire questa situazione abbiamo investito alcune migliaia d'euro per fare entrambi gli interventi, risistemeremo i bagni ma soprattutto li doteremo con un accesso un po' più difficile da duplicare perché mentre prima c'erano le chiavi che si duplicavano in due minuti in ferramenta adesso useremo dei badge personali quindi anche con possibilità di mettere le foto in maniera tale che chi entra è autorizzato sicuramente ha più difficoltà anche a distribuire questi badge che poi hanno un costo con gli altri operatori. Quindi questa è la situazione, ci abbiamo messo le mani, nel giro di qualche giorno anche i bagni saranno sistemati, la fontana non lo è già e quindi sicuramente risolviamo uno del grosso problema che gli operatori ci avevano dimostrato.